Una funzione di controllo ed eventuale supporto alla modifica è la missione che si sono date le associazioni ambientaliste di fronte ai progetti per le Olimpiadi del 2026. C'è un nuovo strumento per farlo. Stiamo strutturando questo osservatorio nazionale, vi fanno parte tutte le grandi associazioni ambientaliste italiane, il Club Alpino Italiano, il Touring Club e abbiamo come scopo, ci siamo dati come scopo, quello di approfondire opera per opera, fare in modo che non vi siano sprechi di denaro pubblico e che le opere che verranno costruite abbiano una logica durevole nel tempo, che rimangano nel tempo e che possano essere utilizzate anche dalle generazioni future. L'obiettivo che si pone questo osservatorio è di non ripetere gli errori delle Olimpiadi di Torino del 2006, quando molti impianti sono poi stati smantellati con costi enormi, oppure dei mondiali di Bormio dove rimangono sul territorio dei debiti importanti che poi i comuni non riescono più ad assorbire. I progetti verranno vagliati per temi. Andremo a studiare progetto per progetto, abbiamo costituito all'interno di questo osservatorio un gruppo giuridico, un gruppo che seguirà l'informazione e un altro gruppo di ingegneri e forestali che seguirà le parti strutturali. Tra gli osservati speciali ci sono alcuni progetti in particolare. Ci sono situazioni critiche. Il villaggio olimpico di Cortina, in località Fiammes, non crediamo che si vada a spendere tutti quei soldi a costruire 12.000 posti a Fiammes e poi tutto venga smantellato. E la stessa cosa vale per il villaggio olimpico di Milano. Le opere che vengono costruite devono essere necessarie.